60 anni della Banca Montepruno che segnano per l'Istituto di Credito il raggiungimento di un altro straordinario traguardo con un utile netto d'esercizio mai raggiunto. Circa 6 milioni di euro lordi è il dato che il Consiglio d'amministrazione della Banca Montepruno ha valutato nel corso dell'approvazione del progetto di bilancio 2022. 5 milioni 132 mila euro di utile netto dunque per la Banca Montepruno che ha riempito di soddisfazioni i membri del CDA, seppur già consapevole delle ottime performance ottenute dall'Istituto di Credito diretto da Michele Albanese nel 2022 in occasione della convention svoltasi a Sala Consilina lo scorso gennaio. Il bilancio approvato dal Consiglio d'amministrazione mette in evidenza la grande capacità della BCC Montepruno di proseguire il suo percorso di crescita senza arrestare l'azione e il supporto del territorio. Una strategia che sta continuando a riservare importanti risultati e che mette l'Istituto di Credito Cooperativo di fronte ad un 2023 che sarà caratterizzato da ulteriori successi per la banca da restituire, come di consueto, alla comunità di riferimento. Nel progetto di bilancio 2022 sono emersi dati importanti anche per il montante. La somma tra depositi e finanziamenti concessi infatti si avvicina alla soglia di 1,6 miliardi di euro. Con un incremento di 82 milioni di euro di depositi complessivi la banca ha raggiunto quota 1 miliardo e 22 milioni di euro. In aumento i finanziamenti concessi con un più 36 milioni fino a raggiungere quota 560 milioni di euro. Il progetto di bilancio, hanno dichiarato il Presidente Anna Misce e il Direttore Generale Michele Albanese, conferma il valore della banca in un periodo molto delicato per quello che sta accadendo a livello internazionale. Dobbiamo essere fieri ed orgogliosi dei risultati raggiunti in linea con le previsioni ma non scontati. I numeri ci consentono di affermare la nostra soddisfazione per il lavoro appassionato messo in campo e per quello che ha generato sul territorio a sostegno di famiglie e imprese. E' il nostro compito e farlo bene significa assolvere al nostro ruolo creando valore diffuso. Un plauso va a tutta la struttura per l'impegno profuso e per aver dato risposte concrete alla clientela. Ci stiamo sforzando di farlo in tutti i modi nonostante lacci normativi, spiegano Misce Albanese, cercando soluzioni alternative su misura con l'obiettivo unico di essere, con equilibrio, di sostegno a soci e clienti. Non è facile ma i numeri confermano che la strada intrapresa è quella giusta. E' doveroso ringraziare tutti coloro che, servendosi del nostro istituto di credito cooperativo, ci hanno permesso di raggiungere vette così prestigiose e conferire un grande apprezzamento verso la nostra capogruppo Cassa Centrale, la quale ha saputo con grande professionalità e vicinanza darci la spinta giusta per farci arrivare dove siamo. Siamo sicuri, concludono Anna Misce e Michele Albanese, che grazie al loro sostegno potremmo crescere ancora, innalzare il nostro livello qualitativo delle performance a favore del territorio e diventare sempre più un punto di riferimento per il gruppo e per l'economia delle nostre aree. Grazie.